Quanto costa la margherita più economica a Lecce? Venite! Belli miei, l'altra sera io ed il Golosone eravamo in giro a Lecce e ci è venuta voglia di dividerci una bella margherita. Quindi siamo andati da pizzeria a Rosetta. Quanto abbiamo speso però ve lo diciamo a fine video. Golosone, devi sapere che questa pizzeria è in attività da oltre 50 anni. Tantissime generazioni sono cresciute con le loro pizze, che negli anni si sono mantenute di altissima qualità con un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile. C'è una vastissima scelta di gusti e il costo non supera mai gli 8 euro. In effetti questa pizzeria sembra rimasta ferma 50 anni fa, sia per l'aria che si respira sia per i prezzi che evidentemente non conoscono inflazione. La pizza che abbiamo assaggiato era un po' piccola ma molto buona, pomodoro saporito e mozzarella bella filante. Il costo di questa margherita? Solo 3,50 euro. Conoscete pizzerie più economiche? Scrivetecelo nei commenti e continuate a seguirci.